Ah che scatola, è un'altra giornata di scuola, non ne posso più, cavolo! Ma si può raghi stare a scuola così tanto? Io veramente me ne voglio andare, me ne voglio andare! Buongiorno ragazzi, buongiorno prof, buongiorno prof! Avete fatto tutti la lettura di ieri? Guardi prof, io la so a memoria! Certo, ma è ovvio! Onestamente, onestamente io... Sì, non ho neanche idea di che compiti abbia dato ieri. Perfetto, ci sarà un test, così vediamo se l'avete letta tutti. Ma pure io l'ho fatta, l'ho letta tre volte. Anthony, tu che studi? Ma quando? E poi io studio sempre per una volta che non lo faccio. Non si arrabbierà nessuno, giusto? Jenny? E io? Ti farò una domanda sulla lettura di ieri. Eh, ok. Tanto l'avrai fatta? Sì, però, fa voglia. Come me ne esco da qui, come me ne esco da qui. Bene, allora di che colore era la rana nel ruscello? Eh, 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 prof! Eh, prof, c'è un problema. Ecco, io, io, io sto malissimo. Sì, 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 sto malissimo. Guardi, mi sento proprio un mancamento. Non lo so cosa sia, dove mi rego in piedi fra poco. Oh, cavolo! Corri all'infermeria! Cosa può essere mai stato? Guardi, sono, sono, sono allergica alle noccioline. Sicuramente ne ho mangiato qualcuna. Ventre, mentre facevo la merenda. Mi scusi, prof! Ci vediamo, eh! Raghi, me la sono scampata. Adesso faccio finta di andare in infermeria. E invece me ne vado nella sala dei bidelli. Sto qui e mi uso il telefono, quanto mi pare. Col cavolo che io mi metto a fare quel test. Ho studiato troppo l'anno scorso e pure all'inizio dell'anno. Mmm, non lo so. Non me la conta giusta. Eh, vabbè, ragazzi. Visto che Jenny sta male, oggi andate a fare attività fisica. Niente test. Coraggio, tutti in palestra. Oh, cavolo, è già finita l'ora, uffa. Oh, ginnastica, no, ma, ma tu non stavi male? Ti ho visto al telefono. Eh, ciao, raghi. No, ma io sono guarita. Ah, che noiosa le solite scuse, eh. Ah, meno male. Secondo me era una scusa. Oh, mio Dio, raghi. Cioè, mi hanno, mi hanno praticamente già scovato. Comunque, io non ne ho voglia con tutto questo caldo di correttività fisica. Certo che sì, correre fa bene, dovresti farlo anche tu, infatti. Sì, ma non avete caldo, io mi sto sciogliendo, ci manca solo che mi metta a correre. No. Oh, mio Dio, ma nessuno ha caldo. Vabbè, sapete che cosa? Non ho un'idea. E poi dobbiamo farlo, non abbiamo mica scuse. Mmm, forse tu non hai scuse, io qualcuna ce l'ho. Oggi è mercoledì, quindi si corre. Fatemi 20 giri di campo e poi dopo faremo pure gli addominali. Oh, mio Dio, giri di campo e gli addominali. Sì, sì. Sapete cosa? Ok. E faccio finta di correre. Corro un pochino e sto ferma. Corro un pochino e sto ferma. Oh, oh, oh no, mi sento male. Aiuto, stai bene? Oh, cavolo, oddio. Oddio, cos'è successo? Ma sono inciapata, mi fa un sacco male la caviglia. Ruff, guardi che lei non le vuole fare queste cose, sta fingendo. Oh, stai in città, non è vero. Magari è perché avevi la scarpa slacciata, sarà per questo. Non riesci proprio? Forse dovremmo chiamare tua madre. Oh, mia madre? Oh, cavolo, mia madre, no. Dopo tutto è un'infermiera. No, mia madre, no, non può chiamare mia madre. Allora vado. No, no, mia madre, mia madre, no. È un'infermiera, l'ha detto lei, è molto impegnata. Come fai ad andare all'infermieria? Eh, vado in infermieria da sola. Guardi, piano, piano, tranquilla. Non si preoccupi. Guardi, cammino così, ok? Bene. Oddio, raghi. Ci manca solo chi chiama mia madre, vi immaginate? Sì, cavolate, cavolate, intanto io la lezione non la faccio, la faccio a vostro. Ora, che mi hanno seguito tutti. Ma che cavolo? Lo sapevo che c'era il tuo zampino, cara Jenny. Dirò tutto al prof. Oh, ragazzi, mi è andata a riposare. E ora sta meglio, sì, infatti, semplicemente. Eh, eh, Jenny. Devo parlarti un attimo in privato. Eh, ok, se ne è andata. Guarda che sappiamo tutti che stai mentendo. E se continui in questo modo, finirai male. Se continui a mentire, la gente prima o poi smette di crederci. Beh, sai che ti dico? Quando succederà? Pazienza, però adesso funziona. Ci saranno grosse conseguenze. Sì, vabbè, ma che cosa vuoi che sia? Chi se ne frega. Prof, non ne creda, Jenny. Fa finta di stare male, ma sta benissimo. Sappiamo cosa fare con la signorina Jenny. Abbiamo già qualcosa in servo. Beh, meno male che ci siete tutti quanti. Perché ho proprio una sorpresa. Con te sta sorpresa! Sìììì! No, per favore! Giù tutto tranne le penne. Non ci credo, non di nuovo. Mi serve un altro piano. Un altro... Oh, quello è una barretta di cioccolato. Alle arachidi! Anthony, dammi quella barretta! Eh! Oh no, prof! Questo cioccolato aveva le noccioline! Non respiro! Oh no, sembra un'emergenza! Ragazzi, tutti a posto! La porto io subito in infermeria. Oh no, sto soffocando, aiuto Come si soffoca? Respiro Oh Jenny, ho sentito che hai fatica a respirare Eh sì, molta fatica Fatti controllare Eh sì, sì La sente che tosse, terribile, terribile Beh, mi dispiace ma dobbiamo chiamare tua madre Cosa? No, no, non può chiamare mia madre Scusi, non riesco a stare i piedi Non può chiamare mia madre, aspetti Eh sì, invece è proprio un'emergenza Ecco, sta squillando Pronto, parlo con la madre di Jenny Sì Sta molto male, non respira Cosa? In ospedale, dice Oh, quindi un'ambulanza Dobbiamo chiamarla subito, ok No, 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 ci deve essere un Infruttimento, mamma, l'ambulanza no Non ne ho bisogno dell'ambulanza Cioè, un po' respiro Oh, non farebbero in tempo, la porterò io Ma come, non voglio andare all'ospedale No, prof, guardi, mi sto sentendo già meglio È un pochino meglio Oh, no Prof, mi metta giù, la prego Tesoro, ma che cavolo è successo? Oh, ma tu sei così allergica È gravissimo Devo chiamare il codice rosso Cosa? Ma che codice rosso, mamma? Forza, ragazze, portatelo in sala operatoria Mamma, ma che stai dicendo? Che sala operatoria? Oddio, non vorrete mica operarmi per una cosa del genere Mamma, lasciami Non posso essere operata... No, no, aspettate, aspettate Che cos'è? Quella è una puntura? No, aspettate, aspettate, mi prego No, 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 aspetta Stavo mentendo Stavo mentendo, va bene Stavo mentendo Era tutta una bugia Cosa? Oh, ma come potresti? Ma abbiamo già la puntura pronta No, mamma, aspetta, te lo giuro Volevo solo saltare il testo a scuola Mi dispiace Oddio Ormai non hai scampo? No, mi prego, mi dispiace Te l'abbiamo fatta Scherzetto Che vuol dire scherzetto? Sapevamo che non stavi male Lo avevamo capito tutti ormai Mi sono solo fatta aiutare a farti un piccolo scherzetto Anche perché continuando a mentire Prima o poi la gente smette di crederti E hai rischiato di farti operare per nulla Non si scherza con la salute C'è gente che sta veramente male Ed è meglio prendere due Piuttosto che fingerti malata Ho imparato la lezione Non la faccio più, mamma, te lo giuro Beh, io e te faremo i conti a casa Ma ora qualcuno vuole vederti Prof Oddio no, prof Mi dispiace Non volevo mentirla e farla preoccupare Ciao Beh, ho saputo che ti senti meglio Beh, sei fortunata perché c'ho un test qui Con un nome sopra di una certa Jenny Oh mio Dio prof Proprio un tempismo perfetto Su dai, vieni con me Va bene, lo faccio Ho ragione, lo faccio raghi Tanto non mi è mai piaciuto mentire sulla mia salute Adesso mi piacerà ancora meno E non lo farò mai più Mi sono salvata un paio di volte Ma in realtà Tanto il test lo devo fare lo stesso E voi avete mai mentito Per scampare a un test a scuola? Tanto non mi è piaciuto non mi è piaciuto Grazie a tutti Non mi è piaciuto non mi è piaciuto